Ciao ragazzi, sono Marco per gli amici Il Cuso e benvenuti a una nuova puntata della Fisica che non ti aspetti. Siamo giunti al quarto video della serie sull'Uranio, o meglio, questa sarà la prima puntata del quarto video, dato che, vista la mole di argomenti da trattare, abbiamo preferito dividere il video in due parti. Una la state guardando adesso, la prossima uscirà domani. Ci è voluto un po' di tempo per preparare questo video, perché un po' la mole di lavoro, un po' la ricerca delle fonti, questa cosa ha impegnato soprattutto Enrico per parecchio tempo. Ma eccoci qua, di che cosa parleremo in questi due video? Un po' di tempo fa vi abbiamo chiesto sulla pagina quale fossero per voi i problemi legati al nucleare, quali sono le vostre perplessità, quali sono le criticità che vedete, che siano oggettive o anche solo percepite. Un ulteriore video della serie, il quinto invece, riguarderà curiosità legate al nucleare, ma di quello poi ne parleremo più avanti. Qui sotto in descrizione troverete tutti gli argomenti trattati in questo video con il relativo minutaggio, così, se volete andare direttamente ad ascoltare la risposta di una domanda specifica, potete farlo senza problemi. Ma non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e procediamo pure con le vostre domande. Il primo problema legato all'energia nucleare è la fiducia. Se non hai fiducia in qualcosa, probabilmente sarà impossibile farti cambiare idea. Se poi quella cosa ti fa anche paura, persino arrivare a avere un parere solo neutrale sarà molto molto difficile. Ma il problema della fiducia si accompagna anche a un problema della percezione del rischio, di capire che cosa è oggettivamente più pericoloso e che cosa viene percepito come più pericoloso. Un classico esempio è quello del confronto tra un viaggio in auto e un viaggio in aereo. Quale dei due è più sicuro? La percezione generale è che guidare un'automobile, proprio per il fatto che la guidi tu, che è nelle tue mani, sia qualcosa di più sicuro. Ma per la stragrande maggioranza di noi, guidare un'automobile non è il nostro lavoro. Noi facciamo altro, a volte facciamo altro anche mentre guidiamo l'automobile e questo è sbagliato. Ma questo fa sì che il numero di incidenti automobilistici sia molto elevato. Viceversa, chi guida un aereo lo fa di mestiere e inoltre non lo fa mai da solo. C'è sempre qualcun altro in cabina di pilotaggio. E i dati parlano chiaro. Ci sono molti meno incidenti, è molto meno pericoloso viaggiare in aeroplano rispetto che viaggiare in automobile. Eppure la percezione del rischio è praticamente invertita. E il motivo è anche il fatto che non fa troppa notizia l'N più unesimo incidente stradale, a meno che non sia particolarmente grave. Viceversa, un incidente aereo rimane sulle pagine dei giornali e nei telegiornali per giorni e giorni. È la rarità di un evento che ce lo fa notare in maniera più particolare, non necessariamente la sua gravità. È vero che con il plutonio di una centrale nucleare si possono fare le bombe atomiche? A questa domanda si è già risposto nella pagina Facebook, che vi invito a seguire per anticipazioni, post monotematici e quant'altro. Ma la riassumo qui. No, con il plutonio di una centrale nucleare non è possibile fare una bomba al plutonio. Benché siano tutte e due plutonio, le loro composizioni isotopiche sono differenti. Per fare un ordigno nucleare serve il plutonio 239 con una concentrazione superiore al 93%, mentre una centrale nucleare crea del plutonio con percentuali di questo isotopo molto inferiori, intorno al 60%. Le proprietà degli altri isotopi, unite ad una differenza di massa molto bassa fra di loro, rende qualsiasi arricchimento, come si fa per l'uranio, non praticabile, rendendo quindi il plutonio di una centrale nucleare buono solo a fini energetici e non proliferanti. Una centrale nucleare consuma troppa acqua. A questa problematica posso rispondere sia sì che no, e nel video vedrete che anche a molte altre domande si risponderà contemporaneamente sia sì che no, e questo perché molte sono soggettive. Il troppo è spesso una percezione, non è assoluto. Una centrale nucleare è una centrale termica. Utilizza la differenza di temperatura tra la fonte calda, l'uranio che fissiona, e la fonte fredda, l'acqua di mare, di lago, di fiume, per generare energia elettrica. Maggiore è la differenza di temperatura, maggiore sarà l'energia elettrica che potrò generare per unità di calore prodotto, il tutto tramite la formula di Carnot. Tutto il calore non convertito è quindi scaricato nell'ambiente riscaldando dell'acqua. L'acqua è prelevata da fiumi, laghi, mari, e poi riversata negli stessi, esattamente come era prima, solo leggermente più calda. I regolamenti in questo senso sono molto rigidi, ma valgono per ogni centrale termica. La differenza di temperatura non può eccedere dai valori prefissati, e in caso di scarsa portata idrica, o la potenza dell'impianto è diminuita, oppure sono fatte entrare in funzione lettori di refrigerazione. Solo più raramente sono concesse licenze per scaricare acqua a temperatura maggiore. Lettori di refrigerazione sono l'unico consumo netto di acqua. Per produrre un kilowattora servono circa 160 litri se questi sono solamente scaldati, mentre ne servono solo 6 se questi sono fatti evaporare. Prendendo il caso francese, e solo le centrali poste lungo i fiumi, perché quelle sulla costa non sono conteggiate, per ogni kilowattora servono mediamente 58 litri, di cui 56 rimessi nell'ambiente, e poco meno di 2 fatti evaporare, e che corrispondono quindi al consumo netto. È possibile consumare meno acqua? Sì, aumentando lo rendimento delle centrali, e nel corso degli anni questo è aumentato da circa il 30% all'attuale 40% per le centrali più moderne. Ma si parla sempre di un ciclo termico, quindi la domanda d'acqua è uguale a parità di rendimento, se si tratta di geotermico, gas, carbone, fissione, o in futuro, fusione. In ogni caso, ogni corso d'acqua ha una sua producibilità massima, e non si metterà mai una centrale termica, di qualsiasi tipo, su un rigagnolo che va in secca se non piove per oltre una settimana. È vero che si può fare teleriscaldamento con una centrale nucleare? Questa opzione è scarsamente usata nell'Europa occidentale e nelle Americhe, ma è largamente usata nell'Europa centrale, orientale e in Asia. Il calore di scarto viene convogliato tramite dei normalissimi sistemi di teleriscaldamento verso le cittadine vicine, consentendo quindi di utilizzare del calore che altrimenti sarebbe disperso nell'ambiente senza alcun uso pratico. C'è scarsa manutenzione. Il nucleare ha notoriamente legislazioni molto più severe. Se io ad esempio iniziassi a estrarre del nickel da una miniera, e lo smarino avesse una piccola percentuale di uranio, ma io buttassi via lo smarino, questo sarebbe il rifiuto minerario normale. Se invece volessi estrarre l'uranio da questo smarino, dovrei richiedere i permessi specifici all'interregolatore del nucleare. La manutenzione è invece sempre accurata e fatta con sistemi sempre più avanzati. Tutti avrete letto dei reattori belgi che stanno avendo un problema dietro l'altro. Questi sono dovuti sia all'impianto in sé, che ai controlli sempre più serrati. Nuove tecniche di indagine, infatti, trovarono che il vessel, cioè la pentola a pressione dove avviene la fissione, aveva delle cricche, delle micro fratture superficiali. Queste, si scoprì dopo, erano state originate già in fase di costruzione per una forgiatura non perfetta. Le micro fratture si sono scoperte solamente con le ultime tecniche di indagine, essendo estremamente piccole come profondità. Si è indagato per lungo tempo se queste potessero compromettere la sicurezza dell'impianto e si è visto che non la compromettevano. Una centrale costruita nel 1965 è vecchia. Anche qui la risposta è sì e no, è in funzione dei controlli e degli aggiornamenti fatti. Prendiamo il caso italiano. Dopo l'incidente statunitense di Three Mile Island, tutto il nucleare mondiale fu aggiornato e si rividero le procedure e si rifecero tutti i controlli di sicurezza. La centrale di Trino fu fermata per alcuni anni per consentire l'installazione di alcuni aggiornamenti di sicurezza, mentre a Caorso fu ritardato l'avvio per gli stessi aggiornamenti. Da ciò, Trino era concettualmente una centrale degli anni Sessanta, ma fu sempre aggiornata agli ultimi sistemi di sicurezza. Questi aggiornamenti erano sia nuovi sistemi di sicurezza che un rifacimento delle sale controlli, con sezioni ridisegnate e colorate perché fossero meglio riconoscibili a distanza. Oltre a questo, si fanno manutenzioni generali e sostituzioni di quasi tutta la centrale nel corso della sua vita, a partire dalle parti convenzionali dell'impianto come turbina, trasformatori, ecc. I generatori di vapore vengono sostituiti almeno una volta per le centrali oggi funzionanti. Anche i coperchi dei vessel sono sostituibili. Solo il vessel in sé non è sostituibile, mentre tutto il resto sì, e puoi quindi dare nuova vita all'impianto cambiando le parti più usurate. È vero che ci sono apparecchiature risalenti agli anni 50 in centrali moderne? Né, in centrali costruite oggi no. Mentre in centrali progettate negli anni 60 e ancora funzionanti, è facile che esistano. Ad esempio, nella sala controllo di Trino esistono, affiancati, comandi digitali e comandi a manovella, ereditati dai submergibili nucleari statunitensi come il famoso Nautilus, ma non quello del Capitano Nemo. Come mai questa commissione di vecchio e nuovo? Sembra strano, ma è per sicurezza. Se guidate tutta la vita un'auto con la guida a sinistra, e poi passate ad una con la guida a destra, quante volte vi confonderete e cercherete il cambio dove non è? Vi assicuro, mi è successo. In una situazione d'emergenza, tu devi fare una cosa che ti hanno insegnato 30 anni prima, per cui ti sei allenato negli ultimi 30 anni a fare ad occhi bendati. Non puoi commettere alcun errore o avere alcuna esitazione. Ma se da una manovella passi a un controllo digitale, potresti perdere secondi preziosi, che potrebbero sia portare a danni gravi per la struttura, se va bene, ma anche pericoli per la popolazione, se va male. Quindi si mantiene l'apparecchiatura originale fino a quando non è indispensabile cambiarla. Al limite, si mantiene l'estetica originale cambiando tutto quello che c'è sotto. Teniamo le centrali in funzione troppo a lungo, oltre i limiti di costruzione. Qui dobbiamo spiegare una cosa. Un conto sono le licenze, un altro è l'usura. Le centrali erano e sono fornite con una licenza del costruttore per poter funzionare tot anni, senza bisogno di manutenzione maggiore. Queste durate erano state calcolate stimando la degradazione dei materiali soggetti a maggior stress e calcolando quando questi materiali sarebbero scesi sotto limiti di sicurezza previsti. Dati i codici di calcolo iniziali e le conoscenze pregresse, si stimò in 40 anni circa la vita operativa dei reattori di seconda generazione. Durante il funzionamento si vide però che il degradamento dei materiali era inferiore alle previsioni e intanto si studiarono tecniche per fare opere di manutenzione maggiore, che all'epoca della costruzione non erano pensabili. Da ciò i reattori americani per cui era stata preventivata una vita operativa di 40 anni, ora hanno avuto quasi tutti licenza per funzionare fino a 60 anni e si sta valutando se alcuni possano funzionare anche 80. Altre nazioni hanno legislazioni differenti e non concedono licenze a tempi fissi e altre le danno con durata variabile, a seconda della centrale o degli interventi richiesti. Il nucleare non si modula. Il nucleare si modula benissimo. Le centrali moderne riescono a variare la potenza di circa il 5% al minuto, quelle più vecchie un po' meno. Questa credenza comune è originata da una constatazione reale. Tutti i reattori sono mantenuti sempre al massimo. Ma come mai si fa ciò se questi si possono modulare? Il nucleare è di solito la fonte più economica nei mix nazionali di appartenenza. A causa del meccanismo del prezzo marginale guadagna di più la centrale che produce energia al minor costo. Quindi è tutto nell'interesse della società elettrica mantenere le centrali a costi inferiori sempre accese e quindi eventualmente modulare le altre centrali che hanno costi di esercizio maggiori. Come faccio a modulare una centrale nucleare? Una centrale nucleare è modulata tramite il controllo della reazione di fissione del reattore. Se vi ricordate, nelle scorse puntate avevamo parlato di acido borico disciolto nell'acqua, che è un veleno neutronico e controlla la reazione. Ma anche le barri di controllo, lo dice il nome, controllano la reazione e queste sono composte di cadmio. Andando a giocare sulla concentrazione dell'acido borico e sull'inserimento delle barri di controllo dentro lo reattore, possiamo variare la potenza quanto vogliamo, portandola fino al 25% o anche meno del valore nominale. Questa regolazione ha però un limite. Si raggiungono le migliori prestazioni di modulazione solo per reattori con combustibile fresco, mentre per quelli a fine ciclo la modulazione è molto scarsa e solo per questi possiamo parlare di on-off. C'è uranio solo per altri 20 anni. Innanzitutto si deve definire per 20 anni. Questo potrebbe essere il potenziale delle miniere in funzione oggi con le tecnologie di estrazione attuali. Ma la IAEA, nel suo report periodico sulle risorse uranifere, elenca risorse certe e già apprezzate per 100 anni ai consumi attuali. Oltre a queste, elenca altrettante risorse speculate o ipotizzate e risorse non convenzionali, anche superiori. Avete presente quando nel video sui norm si è parlato della radioattività del fumo, che è dovuta all'uso di fertilizzanti che contengono naturalmente uranio? Queste sono una parte delle risorse non convenzionali. Altre risorse non convenzionali sono l'estrazione dall'acqua marina, estrazione fatta su piccola scala fin dagli anni 90, ma mai su larga scala perché le risorse derivanti dalle miniere sono risultate sempre molto più economiche. C'è da dire che l'aumentare del costo dell'uranio darebbe nuovo impulso a nuove campagne di esplorazione, campagne ora molto a ridento. All'esaurimento dell'uranio il prezzo aumenterà a dismisura. Il costo del kilowattora nucleare è dovuto per massima parte dai costi di costruzione e di manutenzione della centrale, mentre il costo dell'uranio è solo una piccola parte del costo dei kilowattora. Quindi all'aumentare del costo dell'uranio il kilowattore aumenterà, ma in misura molto piccola. In base a quanto abbiamo detto precedentemente, all'aumentare del prezzo dell'uranio c'è la possibilità di estrarre molto più uranio attraverso vie alternative, e quindi il prezzo finale è sia calmierato negli aumenti di risorse disponibili che nell'impatto che avrebbe sul kilowattora finale. L'uranio è posseduto da nazioni povere, instabili e sfruttate. Attualmente, in passato i produttori erano altri, solo un quarto della produzione mondiale è prodotta da nazioni che possiamo considerare povere, come il Niger e il Malawi. La restante parte è invece prodotta da nazioni stabili e ricche, o almeno benestanti come l'Australia, il Canada, gli Stati Uniti, la Russia e il Kazakhstan. Dovremmo fare o costruire centri di arricchimento o di riprocessamento, altrimenti dipendere da altri. Beh, non è detto. L'utilizzo di reattori Kandu, che funzionano a uranio naturale, o l'utilizzo della via finlandese che non riprocessa il combustibile, elimina questo bisogno, ma si spreca il 99% del potenziale energetico dell'uranio. In passato, l'Italia aveva una quota del centro di arricchimento francese di Eurodif, il centro di arricchimento situato nel sito nucleare del Tricastin. Mentre la società Urenko è di proprietà congiunta olandese, tedesca ed inglese. Ti conviene farne uno tuo solo se hai una grossa domanda interna, altrimenti o compri sul mercato il combustibile o compri quote di queste industrie. Invece, i centri di riprocessamento sono in genere particolarmente complicati da gestire. Hai soluzioni acide, in cui sono dissolti prodotti di fissione altamente concentrati, quindi qui si potrebbe o scegliere la strada svizzera, cioè di usare un centro estero, francese nel caso, oppure quella finlandese, di non riprocessare il combustibile. Da ciò, i centri di riprocessamento civili sono pochi nel mondo, e li hanno solo la Francia, il Regno Unito, la Russia, il Giappone e l'India. In Italia avevamo due centri di riprocessamento sperimentali, uno presso il compresso nucleare di Saluggia e l'altro presso Trisaia in Basilicata. Il primo gestiva il normale combustibile, Il secondo, un particolare ciclo termico-uranio-torio che veniva usato nella centrale statunitense di Elk River. Fabbricazioni nucleari a Bosco Marengo, in provincia di Alessandria, era un impianto per la fabbricazione del combustibile nucleare italiano e svizzero, mentre l'impianto IPU della Casaccia era un impianto pilota per il MOX. Usare uranio non migliora la sicurezza energetica. Un grammo di uranio che fissiona completamente genera la stessa energia di circa 3 tonnellate di carbone. In una piscina per il combustibile puoi contenere uranio per molti cicli di funzionamento del reattore, quindi svariati anni di produzione, equivalenti anche a decine di teravattora per ogni reattore, mentre nello stesso volume non puoi conservare più di poche settimane o giorni di consumi per qualsiasi centrale a combustibile fossile. Ed anche le riserve strategiche centralizzate italiane durerebbero solo poche settimane se i punti di emissione fossero azzerati. L'Italia acquista costantemente durante tutto l'anno gas e petrolio. Esistono sul territorio italiano delle riserve strategiche, che non sono altro che depositi di gas esausti in cui viene reimmesso gas comprato dall'estero durante i periodi di bassa domanda, d'estate, e poi portato nella rete di gasdotti durante i picchi in inverno. Se tutti i punti in entrata, cioè i vari gasdotti che portano metano in Italia, interrompessero il loro esercizio contemporaneamente e non ci fosse alcun razionamento, le riserve strategiche italiane consentirebbero solo alcune settimane di consumi. Non si possono costruire centrali se il territorio è sismico. Ecco la mappa sismica italiana. Accopro in questo quesito anche il fatto che i luoghi idonei per i nucleari siano pochi. Esistono sia centrali microscopiche, da 40 megawatt, che gigantesche, da 5,7 gigawatt, e ce ne sono alcune in progettazione anche di potenza maggiore, come Jaitapur e Kundakulam in India, per quasi 10 gigawatt ognuna. Il nucleare ha la densità energetica maggiore tra le fonti energetiche, sia per quanto riguarda il volume di combustibile usato, sia per quanto riguarda lo spazio necessario a usarlo. L'impianto può quindi essere grande solo pochi chilometri quadrati e generare comunque un quarto dell'energia necessaria a tutta l'Italia oggi. Quindi il problema non è che il territorio, italiano o non, sia in genere sismico o a rischio idrogeologico, perché data l'estrema concentrazione energetica, ti servono letteralmente dei francobolli per produrre tantissima energia. Ne volete la prova? Questa è la mappa di Bologna con sovrapposto allo stabilimento di Zaboris. È più piccolo del solo aeroporto della città. Costruire una centrale nuova costa troppo. Problematica interessante, ma dobbiamo stare attenti a mettere la domanda nella giusta prospettiva. Costa più una villetta monofamiliare o l'Empire State Building? È ovvio, costerà di più l'Empire State Building, ma quanto ne possiamo trarre? A colpo d'occhio però si vede che questo paragone è assurdo, quindi si devono fare raffronti con grandezze omogenee, quindi portare ogni fonte di energia ad un costo per kilowatt installato. Questo parametro non è propriamente idoneo al raffronto. Un kilowatt nucleare produce almeno 8 megawattora annui e rimarrà in funzione al minimo 40 anni, ma con ogni probabilità 60 se non di più. Una centrale a gas ha una produttività teorica similare. Una centrale idroelettrica invece varia molto. I 25 gigawatt installati italiani passano dal produrre poco meno di 40 terawattora annui a quasi 60 terawattora, a seconda della piovosità annuale, quindi diciamo da 1,6 a 2,4 megawattora per kilowatt installato. Per eolico e fotovoltaico, almeno in Italia, idem, siamo sull'1,6 megawattora per kilowatt installato. A questo si deve aggiungere che una centrale idroelettrica ha un'aspettativa di vita attorno al secolo, mentre un pannello fotovoltaico o una pala eolica sui 20-25 anni. Una centrale nucleare almeno 40, abbiamo visto anche molti di più. E questo cambia molto i costi dell'energia, perché i costi di costruzione vengono ammortizzati su una produzione totale molto differente. Poi ogni impianto produttivo è costruito tramite prestiti, e maggiore è il rischio percepito da chi presta, maggiori sono gli interessi. Come evidenzia il MIT in un suo studio, con tassi di sconto bassi il nucleare è la fonte più economica, ma con tassi di sconto alti può divenire la più costosa. Il mantenimento di tassi di sconto bassi è fatto con centrali che sono costruiti nei tempi previsti e con politiche energetiche non ballerine. E modificando il tasso di sconto, cioè gli interessi sui prestiti che chiedi per fare l'impianto, il costo dell'energia varia notevolmente. E infine, le rinnovabili non programmabili hanno poi bisogno di sistemi di backup, che al giorno d'oggi non sono usati estensivamente, ma che potrebbero comportare aumenti significativi del costo di queste fonti di energia. Ci sono fonti di energia più economiche. Come per la domanda precedente, il tutto dipende da moltissimi fattori. Un pannello fotovoltaico nel Sahara è molto più produttivo di uno tedesco. Una pala eolica in Germania è molto più produttiva di una in Italia. Una centrale a gas in Giappone è più costosa che una negli Stati Uniti, a causa dello shale gas americano. Da ciò, lo stesso impianto genera energia a costi totalmente differenti a seconda del luogo in cui è posizionato. Ma anche questo non vuol dire molto. Negli Emirati Arabi, paese desertico e produttori di petrolio, sono in via di ultimazione quattro centrali nucleari, in modo da generare energia a basso costo e permettere di poter esportare più prodotti petroliferi, che ad oggi sono l'esclusiva fonte di produzione elettrica nazionale. In Norvegia, la fonte principale è l'idroelettrico, che produce quasi la totalità dell'energia elettrica consumata nella nazione, e questo grazie, da una parte, a un'ottima produttività, e dall'altra a una popolazione estremamente contenuta, che rende l'opzione nucleare o fossile totalmente inutile e superflua. Insomma, ogni nazione ha un suo mix preferibile per la produzione energetica. Questo è un argomento raramente affrontato durante le discussioni sulle energie rinnovabili. In genere si cerca la soluzione unica, che come una panacea risolve tutti i problemi di tutti i paesi. Ci vuole troppo tempo per costruirla. Come per la domanda sui costi, anche qui non si può paragonare un qualcosa di piccolo con un qualcosa di gigantesco. Se volessi realizzare un impianto fotovoltaico, che produce 12 TWh, impiegherei molti anni, anche solo per le autorizzazioni di via. Puoi sì spezzettarlo in tantissimi impianti piccoli, ma ti servono sempre molti anni per poter avere questa produttività. L'Italia ha aggiunto 12 TWh di fotovoltaico al mix nazionale in due anni, grazie ad incentivi altissimi e all'uso di impianti di medie dimensioni. Poco sotto il limite per il via. Da quando sono spariti gli incentivi, le nuove installazioni si sono quasi annullate e a questo devi sempre aggiungere la vita dell'impianto, che è molto inferiore. Una centrale nucleare, dal primo pensiero di fare la centrale al primo kilowattora prodotto, impiega circa 10 o 12 anni, se non 15, considerando anche le valutazioni di necessità di una nuova centrale. Si cominciò a pensare l'espansione della centrale statunitense di Vogtel intorno all'inizio degli anni 2000. Il contratto fu firmato a fine decennio, ma l'inizio dei lavori fu solo nel 2013, complice anche Fukushima che costrinse a una rivalutazione dei progetti. Il primo kilowattora, anche a causa di ritardi, è previsto per il 2021, quindi alla fine saranno quasi 20 anni tra il primo pensiero e il primo kilowattora. Ma già eliminare la fase «la facciamo o no questa centrale nucleare?» avrebbe tagliato molti anni. Molti impianti dell'Estremo Oriente, invece, impiegano molto meno tempo, anche solo 10 anni dal primo studio di fattibilità alla produzione del primo kilowattora, e ciò anche a causa di una domanda in rapida crescita, che costringe ad accorciare i tempi, a prescindere dalla fonte di produzione, e eliminare tutta la parte del «ci può servire un nuovo impianto di produzione elettrica?» Altro fattore è anche il costruire molteplici impianti all'interno dello stesso sito, così una sola autorizzazione consente di costruire di colpo anche 6 reattori, ed un'autorizzazione per 6 reattori non impiega 6 volte le risorse temporali e di valutazione di necessità di una centrale da un reattore. Dismettere una centrale vecchia costa troppo. Come per la domanda di prima, quella sugli esorbitanti costi di costruzione, anche qui si deve valutare in proporzione sia alla grandezza dell'impianto che alla sua produzione. Il costo di dismissione di tutto il parco nucleare francese, comprensivo della gestione delle scorie, dovrebbe costare 75 miliardi, ma la Corte dei Conti ha già messo in dubbio questa cifra, reputandola sottostimata. Ma 75 miliardi da confrontare con cosa? Poniamo che tutti i reattori e tutti gli impianti connessi funzionino 40 anni, anche se alcuni hanno già funzionato di più. Si devono quindi raccogliere 2 miliardi all'anno fra tutti i reattori. Ma 2 miliardi, derivanti dal funzionamento di 58 centrali in funzione, più 12 già dismesse, che producono attualmente 400 TWh annui, sono cifre ridicole. Sono cifre altissime in assoluto perché i costi sono gestiti da una sola compagnia in un'ottica generale e centralizzata, ma sono contenuti se li rapportiamo alla produzione specifica. I costi di dismissione sono pagati dai cittadini con le tasse. In Italia sono i cittadini consumatori che pagano una tassa nel kWh della bolletta con la componente chiamata A2 più MTC e lo fanno visto che le centrali italiane sono state chiuse prima di aver raccolto i fondi necessari. In altri stati c'è una componente del kWh per il nucleare quando viene venduto in borsa e che quindi va a pesare sugli utili delle società elettriche. Questi fondi sono poi gestiti o in maniera centralizzata o per singola centrale. Nessuno ha mai dismesso centrali vecchie. Esistono decine di centrali già totalmente smantellate. Ad esempio, in America sono state smantellate già oltre una decina di centrali, tra cui il gemello di Trino Vercellese, Yankee Row. Un'altra nazione con molti reattori totalmente smantellati è la Germania. Gli altri reattori spenti, circa 150, sono in varie fasi dello smantellamento, con alcuni nelle fasi finali della dismissione dell'impianto, sia per motivazioni puramente temporali, perché dopo Fukushima ne sono stati spenti una ventina in pochi anni, sia per motivazioni ingegneristiche, come per esempio i reattori a grafite che richiedono tempi di smantellamento molto più lunghi di quelli ad acqua. Ci vuole troppo tempo per dismetterle? Beh, decidetevi. O si dismettono ma ci vuole troppo tempo o non se ne sono mai dismesse. Ma scherzi a parte, i tempi anche qui sono dovuti a vari fattori. Il primo fra tutti, quanto vuoi spendere. Una dismissione rapida, cioè quando il reattore è stato spento da pochi anni, richiede molti più investimenti. Questo perché i macchinari devono essere differenti rispetto a un decommissioning dilazionato nei tempi. Molti materiali allo spegnimento della centrale potrebbero essere estremamente radioattivi, ed esserlo pochissimo anche solo dieci anni dopo. Questo comporta spese di protezione dei lavoratori totalmente differenti a seconda di quando la vuoi smantellare, ed anche spese di gestione dei rifiuti diversi perché ne vengono prodotte molti di più nel decommissioning rapido. Da ciò si possono scegliere differenti strade. O una dismissione lenta, o una rapida. E si può anche cambiare idea. Ad esempio, la centrale statunitense di Crystal River era stata spenta nel 2013, e i piani originali erano di finire lo smantellamento nel 2072. Ma si è da poco deciso di accelerare il tutto e di completarlo nel 2027, iniziando i lavori nel 2020, e si è deciso ciò anche in previsione di un riutilizzo futuro del sito. Quindi, pensando alla domanda serve troppo tempo per costruire una centrale, il riutilizzo dello stesso sito abbatte i tempi di certificazione dello stesso. Un caso differente sono i reattori a grafite. Ad esempio, i piani per quelli inglesi sono prima di tombarli e poi il prossimo secolo di smantellarli completamente. L'acqua di raffreddamento e quella delle ciminiere è radioattiva. L'acqua di refrigerazione esce esattamente come ne è entrata, solo un po' più calda o in uno stato di fase differente, cioè come vapore. Questa non entra mai in contatto con parti radioattive o contaminate dell'impianto. È però presente una forma di rilasci di materiale radiologico. Le acque reflue, cioè non biologiche, sono tutte raccolte e quindi analizzate, ma gli scarichi non sono gli stessi delle acque di refrigerazione. Se superano i livelli di rilascio consentiti, vengono purificate dai radionuclidi. I rilasci gassosi sono invece rilasciati costantemente a causa della impossibilità di stoccaggio. Se, per qualche evento, si superassero i limiti di rilascio, ci sarebbe una situazione di emergenza con conseguenti inchieste per capire l'origine del problema. In ogni caso, questi limiti di rilascio sono estremamente conservativi. Sono calcolati in modo che la dose massima annuale per la popolazione sia di 1 millisievert, a fronte di una media nazionale di 2 o 3 millisievert e di alcune analisi diagnostiche che possono dare dosi anche di più di 10 millisievert. Ci sono troppe misure di sicurezza per la popolazione. Mi rindo conto che in questa parte del video ci sono una discreta quantità di risposte circostanziali, ma così è. Fare una esercitazione per sapere che cosa fare in caso di incidente non significa che tu avrai un incidente. Quanti di voi sanno come rompere il vetro di un'automobile in emergenza nel modo migliore possibile per evitare di procurarci danni? Io non penso di saperlo, Enrico non lo sa. E voi? Quindi in definitiva preferite sapere che cosa fare in caso di incidente e poi magari si spera non metterlo mai in pratica o non sapere affatto che cosa fare? Sono macchine troppo complesse. Il fatto che una macchina sia complessa non vuol dire necessariamente che sia più pericolosa. Abbiamo già detto che un aeroplano è più sicuro di un'automobile ma un aeroplano è anche molto più complicato di un'automobile. È vero però che una maggiore complessità può essere un problema non tanto di sicurezza quanto di percezione del rischio. Essendo le centrali nucleari dei sistemi molto complessi ogni volta che si rompe anche solo una semplice valvola questo richiede la segnalazione all'ente preposto. Quindi se un tempo si cercava di aumentare la complessità per aumentare la sicurezza di un sistema oggi si cerca più di semplificare le cose rendendo i sistemi esenti dall'intervento umano. I sistemi di sicurezza sono in fail safe un po' come i freni di emergenza di un treno. I freni di emergenza sono normalmente tenuti aperti dal sistema idraulico in modo tale che in caso di guasto al sistema idraulico i freni si chiudono automaticamente fermando il treno senza la necessità di un intervento umano. Per esempio gli API 1000 hanno delle cisterne d'acqua posizionate sopra l'impianto in grado di raffreddare per tre giorni consecutivi il reattore anche in caso di disconnessione totale dell'alimentazione. E il raffreddamento avviene tramite tubi che funzionano per semplice gravità che quindi non richiede né intervento umano né tantomeno alimentazione per poter funzionare. Bene ragazzi questo primo video finisce qui. Se volete un approfondimento su alcune delle domande trattate chiedete pure aspettate il prossimo video che uscirà appunto domani per vedere gli altri argomenti che avremo da trattare. Io vi ringrazio intanto per la visualizzazione vi do appuntamento a domani e come al solito siate curiosi la fisica è là dove non ve l'aspettate.